E di secondo cosa ci prepari? Carne simental. Carne simental? Di secondo? Certo, è buona carne magra in gelatina. Oh, sì, sì, per carità. Ma da questo a portarla in tavola come secondo, per mio figlio poi. L'avevo abituato a certi piatti. Con queste verdure vedrai che secondo gustoso. Mmm, bell'idea la simental. Ti piace? La mangerei tutti i giorni. Cosa ti avevo detto, cara? La simental è proprio un gran secondo. Di secondo, carne simental. Un gusto davvero speciale.